guarda no c'è uno che è atterrato qua grazie per la taglia a noi vittoria stanno cercando di sparare dai 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 fatti con le sfresci mie oh oh fatti con le sfresci miele fatti con le sfresci miele sono gesti dentro chi è questo qua continua a nuotare qua sotto vai vicio salvami grazie vicio che voglio bene vieni qua da me che è pieno c'è un cecchino che ho mai avuto una cosa e ce n'è uno c'è una persona qua da me ah appunto non sei tu sì sì è dentro ha fatto un poco regalo poca vita se lo uccidete io lo rivivo io cosa arrivo c'è un po' c'è un po' c'è un po' c'è un po' si esplode attento 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 oh rivivi me poi rivivo io Fabio beh dovrebbe dartela comunque no vicio no ha dici di sì 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 ok bene te la data? di me stesso o no? com'è? magari adesso che c'è Fabio vediamo sì sì tutte le hai fatte? sì tutte e tre servirebbero degli heal no degli splush un medikit allora qua ci sono dei bendaggi poi c'è questo mi faccio i bendaggi poi magari splush mi dai il medikit? beh pure tu tu avresti fatto l'entrò l'avete lootato tutto no? no 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 perché poi c'è stato Fabio che è morto eccetera quindi mo veniamo di trovare qualcosa di utile ah questo è morto subito vuoi mirkodillo splush si è morto subito quando vuoi splushare è mirkodillo che è si intanto sto andando a vedere questo chest questo ci sono degli splush ottimo li porto oh shit ok così da tutto c'è un medkit qua ehm andiamo te lo porto così ti fa il medkit poi dove sai? beh tanto andiamo tutti verso di là che tanto arriva la tempesta no no non abbiamo lo porto un cazzo ehm non c'è molto comunque e più che altro vedo che non ho farmato niente però arriva la tempesta quindi dobbiamo andare su anche se non mi ha fatto adesso vedo come ti permetti è perdito Fabio, vieni anche a te, dov'è che sei? ok qui rubiamo il pacco, per favore io l'ho rubato a uno che ho ucciso, il dorato spinghiamo un luogo che così il giallo viene un qua giallo dai su dai bobby però la cesta è mezza uffa l'ho un po' di sottotitoli un po' di sottotitoli un po' di sottotitoli oh c'è c'è qualcuno noi siamo indietro porca puttana senti? oh le mie dita, figa, si sono infappinate c'è ancora qualcuno è lì di fronte voglio uccidere gli amici però oh bravo allora qua ci sono dei flopper no, non volevo fare quello flopper qualcuno sta rivivendo ah bravo ho due spruzzi ma andiamo in zona io volevo andare sotto nel seminterrato che c'è sempre il chest quello grosso io direi di non andare no, no, dobbiamo fare male beh Mirko, vi inizio qua vi ciò dov'è? no no oh no da lesi? si si, sono lì sono lì che facciamo? ci andiamo? oh c'è gente anche a sinistra dobbiamo salire mi sa che litigano tra di loro quindi lasciali fare chiama qualcuno è salito a Gattogrill e là c'è una scala noi saliamo da qua anche se ci aspettano sono qua cucile viola pompa viola in teoria il gatto è pieno di funghi e di cosa se non è lottata si deve fare almeno lo scudo facca questa no, sono già passate e ti ho detto spacca questo te ne è già andato ah, non ho capito troppo tardi c'è un cocco rimasto qua c'è degli spush altri punghi è la zona che sta arrivando vabbè le spush non le prendo io va con culo ciao andiamocene ma cos'è sta roba mi sparano mi sparano non so da dove da sopra eh sì eh sì eh però devo andare su se venite qua non c'è gente c'è una gara da destra ah che diamine sali mi sali ti copro sono impegnati a rivivere i loro amici lì comunque sto venendo ok ci siamo siamo dentro sono lì saltano aspetta adesso mi sa che uno sta venendo di qua però non sono sicura eccolo lì eh dobbiamo andare anche noi eh lo so facciamo il giro da dietro sì certo sì sì uh continua a saltare il problema sono quelli dall'alto infatti la forse è sempre lì dobbiamo dobbiamo continuare ad avanzare in ogni caso gli stanno sparando altri c'è uno a sinistra di te Fabio porca merda è lì qua sopra è lì qua sopra da qua si vedono tutti ma perché non combattono tra di loro e non cagano il cazzo sì stanno combattendo cioè in teoria stanno combattendo ce n'è uno qua davanti proprio da noi fuoco 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 bella si sono faduto oh no eh ragazzi arriva uno arriva uno in realtà sono in zona vi faccio un medikit sì sì e siamo qua scusa perché la zona sto continuando a stringersi ma io sono in zona si sei in zona anche sulla mappa eh sono what the fuck la zona però continua non si ferma vabbè se l'ho fatta sono vivo per mirato continuare ma c'è degli scudi della roba oh è sceso è vero ma perché sto continuando ad andare aspetta è venuto sto curando tutti i paleri che è vero un'idea è qua da me no l'ho ucciso è qua bella